buongiorno amore buongiorno cos'hai non stai molto bene già sento che vi sta per vedere la febbre ah dai non esagerare sarà solo un raffreddore su cara che la giornata è lunga ah mi prepareresti il caffè mamma mamma non trovo qui il mio libro di matematica me lo trovi babba babba vi aiutaresti a mettere le scarpe tipo solo Annie? si? il mio caffè sai dovrei scappare mamma ciao mamma siamo tornati ciao 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 Grace ehi Grace come mai sei sul divano? e la cena? joe se ti interessa è da sta mattina che ho trettato di febbre chiama Luigi e ordina la pizza per favore oh mamma Annie quante storie sono solo due linee di febbre oh mio dio buongiorno caro buongiorno caro o a Annie oh mio dio oh non mi sento per niente bene sono sicuro che mi sta venendo un mega febbre ohяieieie oh povero caro va che ti prepari una tazza di te caldo Sì, grazie Ma non preoccuparti per me Non vorrei esserti di disturbo Eddie, mi prepareresti ancora un po' di tè? Sì, ok Eddie, mi porteresti dentro a coperta Ho i brividi Certo, caro Grace? Sì, cosa c'è? Mi raccoglieresti il telecomando? Toby! Che c'è? Passami l'acqua Oh Mamma, non ce la faccio più È tutto il pomeriggio che papà mi ordina cosa fare Sì, anche io sono stanco No, a chi lo dite? Non ce la faccio più Sto impazzendo Mi è venuta un'idea Oh Caro Sì? Che c'è? Caro Io e i bimbi usciamo Uscite? E dove andate? Andiamo al bullying con mia sorella e le ragazze Ah, la cena è nel frigo Tu riposati, mi raccomando Ciao papà Ma Eddie, aspetta Io sono ammalato Mi lasci qui da solo Oh John, dai, non fare il frignone Tanto sono solo due linee di febbre, no? Ciao Noemi Yeah Ciao Ciao Ciao